La proclamazione avverrà nell'Aula di Piazza del Popolo, nella quale entro la fine di questo mese si terrà l'insediamento del Consiglio Comunale e verranno svolti gli adempimenti previsti, le dichiarazioni programmatiche del Sindaco, la elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Sarà un voto asimmetrico o quello su questi due punti all'ordine del giorno oppure sarà un voto coincidente, cioè sarà un voto in ordine sparso e dunque un risultato che non prefigura una maggioranza e lascia tutto e tutti nel pantano oppure sarà un voto frutto di intese che potrebbero avvenire in questi giorni che coglie due piccioni con una fava, la maggioranza che elegge il Presidente del Consiglio Comunale diventa anche la maggioranza a sostegno del Sindaco Ciampi. Terze vie non sembrano essercene, ci sarebbero in verità, ma le intenzioni annunciate ancora ieri da Ciampi non sembrano prevederle, anzi mi pare di poter dire che le escludano a priori. Non so se questo avviene per un qualche calcolo o se questo avviene per mancanza di realismo politico. Ciampi e il Movimento 5 Stelle forse perché ripeto ancora storditi dalla inaspettata vittoria non trovano il bandolo della matassa che gli hanno affidato i cittadini di Avellino e se pensano di trovarla attraverso la strada che hanno imboccato io credo che non lo troveranno. Anche l'iniziativa di ieri, il decalogo delle priorità va in questa direzione, presentate come la sovrapposizione delle proposte, arrivate via mail a Ciampi, altro non sono che proposte già note in campagna elettorale. Una iniziativa quella di ieri per riempire il vuoto che c'è sul campo, a suo modo anche un po' surreale. Non avendo ancora fatto la cosiddetta operazione verità sul bilancio si affermano cose e si assumono impegni che a dir poco contengono una qualche incertezza sul fatto poi di poterle mantenere. Ma il punto non sarebbe neanche questo, le terze vie, vorremmo parlare di questo oggi. Ciampi e il Movimento 5 Stelle, visto che anche essi come tutti gli altri dicono di voler far tesoro delle sollecitazioni che il Vescovo di Avellino ieri ha lanciato al Sindaco e a tutti i consiglieri comunali, non hanno messo in campo ciò che la situazione richiede, cioè realismo, capacità di mediazione, esigenza di trasparenza, consapevolezza del ruolo e delle funzioni al servizio vero della città. Proprio come ha chiesto Monsignor Raiello, Ciampi avrebbe dovuto dire e potrebbe ancora dire che gli avellinesi mi hanno eletto Sindaco, ma io ho solo 5 consiglieri comunali che mi sostengono. Propongo al Consiglio Comunale, che non ha meno responsabilità nei confronti della città di quante ne abbia io, un programma fondato su questi punti da realizzare in questi tempi. Poi tireremo le somme e decideremo se ci sono le condizioni per fare altro ancora o per tornarcene a casa tutti quanti. Nel frattempo avremo fatto qualcosa di buono e di utile per la città e avremo onorato nelle condizioni date le nostre singole e collettive responsabilità. Se ci fate caso, questa è la via meno impervia, più chiara, che davvero esclude ciò che a parole si dice di voler tener fuori, dal manuale ciancelli al mercato, dal riciclaggio di questo, quel tarzan sotto le mentite spoglie dell'assessorato tecnico, fino allo sguinzagliamento di personaggi di un qualche rilievo che insieme ai propri interessi naturalmente hanno abbracciato questa avventura e si stanno dando molto da fare utilizzando la propria influenza per intavolare ammiccamenti, trattative con singoli consiglieri del centro-sinistra e non solo. Mi sembra questo il frutto più avvelenato che si sta coltivando, non che il mondo degli affari, dell'impresa, del credito siano stati estranei in passato alla formazione di giunte, alla nomina di assessori, nel sostenere direttamente o indirettamente questo candidato sindaco o questo candidato consigliere. Tra l'altro è un loro diritto farlo se questo avviene in una cornice di chiarezza dei ruoli e senza condizionamenti di sorta e comunque il loro ruolo si manteneva gerarchicamente al di sotto. Per come si stanno invece mettendo le cose? Sarebbe la prima volta per Avellino che a guidare la giostra sarebbero l'oro e non la politica che ne esce così pesantemente condizionata da un'agenda scritta da interessi che non necessariamente coincidono con quelli diffusi e prevalenti. Ecco, Vincenzo Ciampi ha considerato questo, può dirci se insieme a lui corriamo questo rischio? Dunque, una strada meno impervia rispetto a quella imboccata che sta invece incartando la situazione nel suo divenire. Per esempio, è per niente certo intanto che il sostegno dato a Ciampi al secondo turno da Cipriano, Preziosi e Morano diventi sostegno in aula al sindaco e alla sua giunta. Tranne Morano che mostra una disponibilità tanto larga quanto spensierata, Preziosi e soprattutto Cipriano si stanno interrogando. Proprio Cipriano, ospite ieri qui da noi con Giancarlo Giordano, ha posto a Ciampi una questione che mi è parsa ed è dirimente. Se presentandosi in Consiglio Ciampi non ufficializza la costituzione di una coalizione con chi lo ha votato al secondo turno, così ha scandito Cipriano coalizione, i tre voti di Cipriano se li può scordare. Il voto poi di Preziosi, essendo soltanto uno, in questa situazione diventa ancora più prezioso e l'ex manager dell'Aire ci penserà molto prima di regalarlo comunque gratis e tamore dei. A quel punto che si fa? Si incrementa la campagna acquisti, si chiudono a chiave nell'aula di Piazza del Popolo i consiglieri comunali fino a quando non daranno vita ad una maggioranza, facendo come ha ricordato ieri proprio il Vesuo, come fecero i Viterbesi parecchi secoli fa quando chiusero a chiave in un palazzo i cardinali che non si decidevano ad eleggere il Papa. Ho l'impressione che da parte del Movimento sia stata preferita, preferita dico, la strada sbagliata perché ha puntato tutto sulla divisione che appare nel centro-sinistra. Dico appare perché le dichiarazioni che da quei fronti provengono vanno proprio in questa direzione. Attenzione però, la politica è l'arte del possibile, lo ha ricordato anche questo Monsignor Aiello ieri, chi può dire che le sette liste che hanno sostenuto Pizza e che hanno imboccato anch'esse una strada imperbia non decidano di percorrere un altro percorso? Parte, non parte, la Giunta Ciampi in qualche modo partirà? C'è una certezza, quelli che potrebbero andare in soccorso stanno facendo un po' di calcoli, uno su tutti, quanto durerebbe? Se si ipotizzano tempi lunghi, magari i prossimi 5 anni, il gioco probabilmente è fatto, se invece si ipotizzano tempi stretti e corti, 4-5 mesi di bailamme, il gioco cambia, diventa un altro. Io non faccio il bookmaker e non quoto le due ipotesi, se però dovessi fare una puntata di pochi spiccioli non avrei dubbi su che cosa scommettere. Il pallino dunque abbastanza impazzito di questi giorni è destinato in qualche modo a tornare nel campo del centro-sinistra, sempre che nel centro-sinistra ci sia la capacità e la voglia di giocarlo. Al momento resta, come sapete, come sappiamo, un mosaico scomposto, chi lascia intravedere una linea predisposta al dialogo con Ciampi, chi gli chiude apparentemente tutte le porte, chi le tiene socchiuse e potrebbe spalancarle o serrarle se si dovessero verificare cose piuttosto che altre e tutto questo dentro una partita interna che rischia però di essere sempre meno interna, quella della elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Credo che ognuno e tutti insieme dovrebbero discutere di altro, partire da altro. Il voto che hanno ricevuto i 18 consiglieri eletti deve anche certamente misurare e fronteggiare lo svolgimento della vicenda in corso, ma nel farlo credo che debbano considerare prioritariamente il senso del mandato ricevuto, trovare soluzioni adeguate, utili per la città, ma rispettando la principale responsabilità a cui devono dare conto, quella di restare dove gli elettori li hanno collocati. Molto dipenderà, lo andiamo dicendo da giorni, da cosa saprà mettere in campo il Partito Democratico di cui però non si sente verbo. Da qui abbiamo chiamato in causa l'unico parlamentare eletto il 4 marzo scorso, Umberto del Basso De Caro. Ieri De Caro ci ha telefonato, ha accolto il nostro invito e nello speciale studio sera di lunedì prossimo sarà nostro ospite. Il post-quittum di oggi è per così dire scolastico, è la guerra aperta sia Mirabella tra alcuni assessori e il sindaco sul trasferimento di due scuole, l'alberghiero e il liceo classico. Il comune ha un territorio molto vasto, composto da frazioni che sono e si considerano a loro volta altrettanti mini comunità, mini paesi, Passo di Mirabella, Piano Pantano, Calore. L'incremento anche di attività commerciali in queste frazioni ha contribuito in qualche modo a svuotare se non a desertificare il centro della città del carro. Quindi le due scuole, secondo il sindaco, vanno trasferite in locali comunali già pronti nella frazione Passo. I due assessori, forti anche di una delibera passata alla quasi unanimità, chiedono invece che le due scuole vengano ospitate nella ex sede del comune, nel centro di Mirabella. Il sindaco Obietta occorrono quasi 300 mila Euro per rendere funzionale quella sede, 300 mila Euro che non ci sono. La Baruffa prende quota, Capone viene definito sindaco Pinocchio ma anche accusato di conflitto di interessi. Lui è del Passo e, come dicono i due assessori, vuole mettere le scuole sotto casa sua per incrementare così la considerazione elettorale nei suoi confronti. In queste cose è come tra moglie e marito conviene tenersi alla larga. Però davvero pensano a Mirabella che la desertificazione si ferma mantenendo due scuole in un posto piuttosto che in un altro. E davvero, pensa il sindaco, se lo pensa, che trasferendo due scuole nella sua frazione prima o poi per questo gli dedicheranno un monumento equestre, Mirabella potrebbe vivere sei mesi l'anno, soltanto concentrando le iniziative sull'obelisco che viene tirato la seconda domenica di settembre e poi viene smontato e rimesso in garage, incrementando il museo del carro, valorizzando a tempo pieno gli scavi di Eclanum con concerti, grandi appuntamenti culturali e quant'altro. C'è poi l'arte della ceramica, l'artigianato della paglia. Insomma, hanno parecchia roba su cui lavorare e non è detto che già non lo facciano. Ma il problema principale che ha acceso questa guerra termonucleare sono le pizzette che i ragazzi comprerebbero in un posto piuttosto che in un altro. A questo punto, se proprio a Mirabella vogliono andare fino in fondo, uniscano l'utile al dilettevole. Visto che il problema c'è, organizzate il palio delle frazioni, possibilmente incruento e chissà che con il tempo non facciate concorrenza a quello di Siena. Con il diario ci vediamo domani pomeriggio, arrivederci.